Ah no, Rambler Jack è il cecchino, ma dai, ma io faccio schifo in tutti i giochi col cecchino Oh, ok Salve a tutti ragazzi, se non siete ancora iscritti, premete il tasto iscriviti adesso e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video Salve a tutti ragazzi, sono sempre Redbox e bentornati sul mio canale Oggi sono qui su un nuovissimo free to play che è appena uscito su Steam, l'ho trovato appunto su Steam Questo video non è un video sponsorizzato, come ogni volta ci tengo a precisarlo Perché se fosse sponsorizzato sarebbe pure meglio, no? Perché mi pagherebbero per farvi vedere un gioco che altrimenti vi farei vedere gratuitamente Ma ad ogni modo, volevo farvelo vedere perché ho visto qualche video e mi è sembrato davvero carino per essere un free to play Come vedete ancora non ci sono né shop, né store, né niente perché è appena appena uscito Possiamo fare un normal game, ci sono tipo Dominio di Call of Duty oppure Demolition Mmm, io proverai a fare un attimo Domination, entriamo nella partita e vediamo un po' com'è questo gioco Mi raccomando ragazzi, se questo gioco vi piace, lasciate un bel mi piace Se volete vederci altri video, ditemelo nei commenti È un free to play ad eroi, più o meno come Paladins o Overwatch Circa, ovvero ogni eroe ha la sua abilità, ogni eroe ha le sue armi, le sue debolezze, i suoi punti forti E questo eroe me l'ha preso a caso il gioco, quindi non ho idea di come funzioni Questa è la mia prima partita in assoluto, credo sia un gioco coreano se non sbaglio Non ho idea dei punti di spawn, non ho idea di assolutamente Ah io non mi trovo per niente bene però vedete posso Posso in qualche modo proteggermi Ok H, 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 non so perché mi dice di premere H ogni volta Io dovrei avere un fucile a pompa, quindi il fucile a pompa dovrebbe fare un bel po' di danno Ma non fa un cavolo di niente Oh, oh, ok, ok, ho ucciso la mia prima persona Arriva il cattivo? Arriva il cattivo, è lì? Vai, ok, l'hanno ucciso, H, 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 H Ah ok, non capisco perché mi dica di premere H, comunque stiamo trattenendo qua Come faccio io con la F? Oh, posso curarmi da solo, perfetto Allora, col mirino quest'arma non mi piace per niente Se non miro qualcosina riesco a fare Però vorrei provare altri eroi assolutamente Oh, ok, ho ucciso di nuovo E stiamo vincendo credo, sì perché stiamo conquistando l'obiettivo Questo gioco sembra anche abbastanza leggero Questa è la qualità massima Ovviamente essendo un free to play deve essere abbastanza arrivabile, abbastanza giocabile da tutti Non capisco sta cosa di premere H in continuazione che ti dà dei punti di qualche tipo Che io sinceramente non capisco Oddio, 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 questi mi fanno la bua Questi mi fanno tanta bua Ok, quello è morto, ce n'è un altro di là Ma io con questo non posso fare niente da lontano Oddio, vedete, ho il fucile a pompa Io da lontano sono inutile Devo fare close quarter Vieni qui No Con la n Ah, vedete, posso cambiare Allora, cosa mi prendo? Mi prendo Rambler Jack Ah, no, Rambler Jack è il cecchino Ma dai, ma io faccio schifo in tutti i giochi col cecchino Oh, ok Faccio schifo Avevo appena finito di dire che faccio schifo Oh, quello era quasi morto Ok, ok Aiaia, questo fa male Metto una Claymore Cos'è questo? Non so cosa sto facendo Eh, non capisco se sto facendo bene o no Ma a quanto pare sì Aiuto, ho bisogno di cure Cosa fa la F? Uh, posso mettere una barriera Oh, nice Posso anche fare questo, tipo E poi magari No Ok, sì Dove lo... Le mette giù a caso, aiuto Aiaiaiai Vabbè, io provo un po' tutti gli eroi Perché non ho idea di quale sia il mio preferito Però ovviamente ci saranno quelli tipo a rotazione gratuita Come in tutti i giochi di questo tipo Eh, o... Oh, fino al... Oh, quello col mitra Ok Ah, vedo che con piacere le cose che ho messo io nella vita precedente rimangono Non vengono tolte solo perché sono morto Sta cosa mi piace un sacco Aiaiaiaia Mori per favore Ah, questo mi piace Lo voglio riprovare Eh, devo assolutamente prenderci un attimo la mano Your position is exposed Cosa? Ah, ma allora Il punto A non è più nostro a quanto pare allora Ce l'hanno fregato? Non ho idea di come... Non so praticamente nulla Vieni qua Maledetto Ah, mi butta le bombe Le bombe no Le bombe no Ok Ok, lei se n'è andata Questa è già una classe con cui mi trovo meglio Perché è un po' più standard Si trova gente che non si muove nemmeno Oddio Allora, il punto A è dei nemici Quindi dobbiamo prendercelo Ok Non mi hanno ancora visto Non mi hanno ancora Occhio Devo caricare Oh, ma anche se non si mira Non è che va tanto male, eh Tienti sta granata Grenado, amico! Ah, è morto? Ah, è morto! Assolutamente sì Io non so C'è solo questo punto Da conquistare Forse Vanno in sequenza Cioè tu conquisti questo Allora, con la F Ho l'emunizio Ah no! Sono diventato Come quello di King Fortress No! Pensavo fosse un amico Avevo visto il nome blu Invece era l'altro Quanto sto facendo? 9-4 Niente male La mia primissima partita Vi ripeto Questa classe mi piace Perché ripeto È un po' più convenzionale Delle altre Di quelle che ho provato Quello col fucile a pompa Una volta che ci prendi un po' la mano Non è malvagio Ma non... Oh, guarda, guarda! No! Non mi ha dato neanche... Ah, sì, mi ha dato l'assist Ok Assolutamente attento Guarda, ci abbiamo più vita del normale Degli altri FPS Ma comunque... Ah! Aiuto! I movimenti sono un po' clanky Attenzione A cos'è sta roba? Prendo danno se ci sto Uh! Gli ha dato delle bo... Tu mi hai ucciso prima Tu non mi uccidi di nuovo Hai capito? Invece mi sa che mi uccide proprio Devo ricaricare con tutte le armi Attento Vai, doppio il... No! No, 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 no Sì! Sì! Double kill Ricarica, ricarica Devo ricaricare assolutamente Ho tre di vita No, questo amico Datemi la vita Oh, caro Mi sta curando, mi sta curando qualcuno Otto di vita? Prima non avevo tre di vita? Qualcuno mi può dare della vita? Per favore Per favore Ho bisogno di vita Oh, grazie, grazie Grazie, grazie Grazie mille Mi sta curando piano piano Credo In qualche modo Ok, qua non potete aspettarvi di fare kill subito Cioè, nel senso, potrebbe capitare Ma siccome siamo degli eroi Abbiamo un po' più di vita Degli FPS normali Vai, double kill Assolutamente La mia primissima partita Ripeto, ragazzi Non sto scherzando Avete visto anche voi Ero proprio livello base Ero proprio livello base Base, base, base No, dannazione 13 5 Sì, perché le morti sono le ultime Ok Il punto per ora è nostro Mancano 4 minuti Dovremmo farcela Spero che questo gioco vi piaccia In tal caso, ripeto Lo trovate su Steam E vi ricordo che non è un video sponsorizzato Perché altrimenti ve lo direi senza problemi Diamo una mano a questo nostro compagno Ma quella lì si sta curando tantissimo Ok, è morta Ok Ai 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 Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Oh, cos'è che mi fa male? Sto facendo un botto di headshot Ah, me l'hanno fregato Mi hanno dato l'assist però Questo Ai 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 Qua ci muoio Qua ci muoio Ero entrato troppo nel territorio nemico L'obiettivo adesso è loro Però stavamo vincendo noi Quindi non voglio lasciargli l'obiettivo Ok Se si può Di qua Dove si va? Questa è l'unica mappa che ho visto Perché è la prima partita che ho fatto Press H to play Ah, guarda, guarda, guarda Guarda quanta esperienza faccio Guarda, guarda Continuo a premere H Mi dà esperienza Perché sto tipo Applaudendo un nostro amico Comunque io vi consiglio di Non mirare se non è strettamente necessario Almeno con questa classe Perché Ma anche con quella del fucile a pompa Io noto che Mirandu si è Cioè è un po' strana la cosa Allora, quello Ha la protezione spawn Però la protezione spawn Non ce l'ha più Oh Aiuto Ai 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 Sono in un posto un po' del cavolo Eh Sinceramente Oh Dieci kill streak Wow Ha fatto dieci kill di fila quello Oh, guardala là No, non ci credo Non aveva più vita Non aveva più vita Non ci credo Dai dai che stiamo vincendo Se vinco la prima partita Proprio easy peasy Lemon squeezy Assolutamente Ok Dove Oh Devo abituarmi a non mirare Perché Mi viene spontaneo mirare Dato che questa alma Al mirino Ma a quanto pare Non mirando si sta Oh Sarò scemo eh Non l'avevo mica capito Che quello era uno dei nemici Quello è invisibile Ma quante abilità Ma che cavolo Dai diciamo che da un twist piacevole I soliti free to play Dove tu entri Ammazzi Vieni ucciso Ammazzi Vieni ucciso Qua bene o male Tutti abbiamo le nostre abilità Sì ma tu tizio Stai cercando veramente Di entrare qui No, 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 no Non avevo più colpi Non ha più vita Vabbè l'hanno ucciso L'hanno ucciso Perfetto Gli ho tolto tutta la vita Io mi sono beccato Un semplice assist Ma va bene così Allora Dobbiamo capire Ci sono anche altri eroi Vorrei provarne degli altri Quella tipa lì Non mi piace Neanche un po' Quello non ha molta vita Aiaiaiaia Aiaia Che male Muoreci Ok Ricarica Vai Vai Ok Ce n'è un altro Eh ma qua sopra c'è la tipa Oh abbiamo vinto Abbiamo vinto Prima partita Prima vittoria 16-8 Ma direi che non mi posso Assolutamente lamentare E direi che Per questo video è tutto Se vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Se volete vedere altri video Di questo gioco Ditemelo nei commenti E noi come sempre Ci vediamo nel prossimo video Ciao Oh no Oh no Oh no Oh no